Sì, sono molto contento di com'è andata, anche del premio, sono molto fiero di rappresentare. Sinceramente sono stati due bei giorni dove abbiamo potuto testare varie dinamiche di squadra, rotazioni, attacco e difesa, come detto. Ovviamente la strada è lunga, però ci crediamo e lavoreremo per questo. Sono due partite ovviamente diverse, una dove all'inizio eravamo un po' più lenti nel giocare e poi abbiamo ripreso, mentre oggi erano due andature diverse. Ovviamente sono due squadre diverse, ovviamente fa parte anche del precampionato, sappiamo che non sembra andrà magari come vogliamo o come ci aspettiamo, però l'importante è la costanza, la determinazione e fare quello che serve e riconoscere le varie situazioni da volta a volta. Il fatto di giocare da dentro mi aiuta ad essere anche più percoloso e crearmi più spazi anche dopo per il tiro da fuori. Ovviamente valuto da partita a partita per quello che serve. Oggi avevo più vantaggio magari a giocarme alla spalla o cercando dei pick and roll, profozioni un po' più profonde sugli scarichi, mentre che è un tiro da tre punti, però comunque si gioca per cercare la migliore opzione per poter portarla a casa alla fine. Beh sì, abbiamo altre tre amichevoli, come hai detto tu una e poi il torneo, il prossimo weekend. Diciamo che innanzitutto mi prendo il giorno di riposo domani, però a testa alta, sapendo di quello che siamo capaci e continuiamo a lavorare giorno dopo giorno indipendamente da tutto. Abbiamo delle amichevoli che ci prepareremo meglio per l'inizio del campionato e faremo quello alla fine. L'obiettivo è la prima giornata del campionato. Grazie a tutti.